Domenica 23 giugno Si è tenuta la festa dell'Associazione Carabinieri Paolo Canavera. L'appuntamento è stato patrocinato dal Comune di Caselle che ha partecipato in blocco. Al ritrovo nella sede di Via Bianco di Barbania hanno presenziato il Sindaco Luca Baracco, il Vice Sindaco Paolo Gremo, gli Assessori Giovanni Isabella e Erika Santoro. Il Comune di Mappano era rappresentato dal primo cittadino Francesco Grassi e dal capogruppo della minoranza Walter Campioni. Del tutto assenti invece le figure istituzionali dell'amministrazione borgarese, regolarmente invitata a raduno. L'arma era rappresentata dai carabinieri della stazione di Caselle guidata dal maresciallo Fabio Fornaiolo, dal predecessore Pasquale Sini, ora in congedo, dalle consorelle di Cirie, Mati, Lenì, Druento e Venaria. C'erano anche i laberi dell'Associazione Locale di Caselle e Mappano. La giornata si è aperta con l'alza bandiera dei locali sociali. Il momento solenne è stato accompagnato dal gruppo storico Carabinieri Reali di Chivasso. Il corteo è proseguito in Via Savonarola dove è stata apposta una targa sul Monumento delle Forze dell'Ordine. Si è proseguito con la messa e l'inaugurazione di una targa al maresciallo maggiore Cavaliarmario Bosotti. Thena avvertà al maresciallo ca bene così così e così salvo ai corsi都 a gestire poco. Suga L'ultimo